A chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme, a tutti voi auguriamo un anno di sorrisi. Buone feste da Dentec Clinica Dentale. La luce del Natale è portata in giro per le strade del quartiere da genitori, docenti, alunni del plesso scolastico Lombardo Radice di Ginosa del Comprensivo Calò. Con tanto di zampogna, canti natalizi intonati a suon di chitarra e l'asinello. Una lunga fiaccolata che ha poi raggiunto il cortile dell'istituto dove è stata nei giorni scorsi allestita la capanna. Un'iniziativa genuina portata avanti dalla scuola di Ginosa che ancora una volta ha fatto registrare la grande partecipazione delle famiglie. L'impegno nelle scuole è sempre notevole. E' chiaro che per questo periodo di Natale c'è stata una programmazione di attività natalizie che è cominciata già il giorno della manifestazione che abbiamo fatto per beneficenza del dolce e del salato. Subito dopo abbiamo avuto la visita di Babbo Natale, poi siamo arrivati alla giornata dello zampognaro e venuto qui. I bambini hanno visto la zampogna così come è formata. Hanno portato la luce del Natale in giro per le strade del quartiere della scuola Lombardo Radice, istituto comprensivo Calò. E quindi cantando appunto con l'aiuto dei genitori e con la chitarra, cantando questi canti natalizi. Siamo giunti qui nel cortile della nostra scuola dove è stata allestita nei giorni scorsi una grande capanna. Una capanna stupenda, meravigliosa. Quindi guardiamo più spesso i bambini. Questo è il messaggio, è la metafora chiaramente che viene fuori il giorno, l'ultimo giorno delle attività natalizie. Famiglie che si sono affacciate dalle case, sono uscite dalla porta perché il messaggio è veramente giunto nei cuori di ognuno di loro. Abbiamo fatto questa bellissima manifestazione con la grandissima partecipazione degli insegnanti, dei genitori che hanno fatto da sostegno principale per la nostra fiaccolata natalizia. Tutti i bambini hanno partecipato, abbiamo avuto anche la bellissima partecipazione dell'asinello, la Madonna con Gesù un bambino, tutti in corteo. Abbiamo fatto un bel giro della parte storica, diciamo della nostra parte di via Matera, di via Orti, ritornando nel presto scolastico. Abbiamo i bambini che cantano tutte le canzoni natalizie, abbiamo avuto la partecipazione del sacerdote con una bellissima benedizione per tutti i bambini, per Gesù un bambino e per tutte le nostre famiglie. Con la promessa di riproporci per il prossimo anno, anzi se proprio ce la faremo anche per Pasqua. Un grosso augurio a tutti per questo Natale e un augurio gigante per queste feste che ci circondano. Un buon anno e un felice Natale a tutti. Emozionanti queste manifestazioni, questo stare insieme ai miei alunni, alle famiglie dei miei alunni. E anche, che ringrazio anche per la collaborazione che danno alla scuola, per la presenza continua e costante che si avverte e che certamente mi auguro che possa continuare nel tempo. Possa il mio augurio aggiungere a tutte le famiglie della comunità ginosina, che abbraccio fortemente. A chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme, a tutti voi auguriamo un anno di sorrisi. Buone feste da Dentec Clinica Dentale.